La moda è uno dei settori traimenti dell'economia italiana. La moda italiana vuol dire stile, vuol dire industriosità, capacità di tecnologie innovative, materiali nuovi, lavorazione di grandissima classe. La moda significa prodotto interno loro, significa ricchezza, significa benessere, significa migliaia e migliaia e migliaia di posti di lavoro. Per questo tutti gli anni voglio essere presente a una o due sfilate e poi ritenendomi una persona di buon gusto mi piace anche ogni tanto vestire qualcosa da moda come questa splendida cravatta che è di questo stilista che sono qui a vedere. Noi italiani siamo bravi, forti, nei momenti difficili siamo capaci anche di venire fuori e di dimostrare a tutto il mondo che siamo i più bravi. Ma questo, dobbiamo dirlo, dopo aver fatto 65 miliardi di euro di fatturato a livello moda, dopo in questo momento qua che c'è una crisi, noi sportiamo in una maniera sempre più crescente, non vediamo le istituzioni vicine a noi, eccetto del Presidente. E questo per noi è molto grave, mentre la Francia fa sistema noi non lo facciamo. Noi ci dimentichiamo che esistono i giovani, noi ci dimentichiamo che esistono gli artigiani, noi non insegniamo i mestieri. Buona visione della sfilata, grazie mucho e a bientù! Buona visione della sfilata, grazie a tutti!